ciao a tutti amici da gioco e game ho pensato stavo portando un vip del night club però me l'ha dato lontano mi sono incazzato io ho sette chilometri non me li faccio ho fatto saltare in aria non me ne frega niente se non guadagno il night club non ha importanza non ha importanza era troppo lontano quindi ho pensato comunque un'altra cosa dato che ci sono gli sconti io ho un attico al casino che l'ho preso solo base all'inizio no quindi il garage io mi ricordo che costava tantissimo adesso cosa 900 mila quindi c'è uno sconto qua 900 mila dollari penso che ci sia lo sconto ecco qua io se tanti soldi vanno e vengono io se io lo faccio completo ho visto prima mi costa 4 milioni e qualcosa le colorazioni andiamo a vedere com'è io ho messo questo perché mi piace questo colore perché questo qui a chi piace giallo oppure questo colore qua io ho messo questo perché mi piace questo stile qui andiamo a vedere le colorazioni la carta da apparati sarebbe questa ma il colore al momento se io vado su colorazioni e metto questo costoso supponiamo no e poi vado su stili cambia qualcosa cambia la carta cambia la carta ma insomma questo è quella normale questa è quella che dicono imperiale l'imperio andiamo a vedere le colorazioni ancora torniamo sulla mia andiamo su stili vabbè tanto stile posso sempre cambiarlo la colorazione la posso sempre cambiare mettiamo questa andiamo su stili è sempre marrone dentro è sempre il legno no no io lascio questa qui andiamo a vedere il successivo riepilogo lo dice mi costerebbe 4 milioni così vedo tutto quanto e non ce l'ho tanti soldi vanno e vengono così io ho il massimo e posso giocare dentro anche qua dice colorazione eh ma la colorazione a me mi piace questo colore non è brutto non è marrone questo è vivace ah il tappeto ah per non essere smorto vediamo dal mio dal mio base cosa cambia quando lui cambia le figure qui beh vivace beh sì è così vivace in questo modo oppure questo elegante 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 magari il questa qui è bellino però è i divani né a me questi divani tipo rosa così non mi sono rosso sì ma un divano vediamo come il mio divano ah beh allora sto appunto è meglio questo di divano eh è scuro tanti soldi vanno e vengono come abbiamo sempre mi costa 5 milioni per 5 milioni io li recupero in un giorno un giorno un giorno di game per me sono 5 milioni quindi acquisto ora sì sì acquisto tutto imposta la meta andiamo a vedere il casino così ho messo anche lui al massimo dovrei terminare al massimo il night club però non è che me ne frega più di tanto c'era da mettere dentro lo staff comunque c'ho anche altre cose che non ho finito anzi che sono qui ecco farò un altro acquisto adesso ve lo dico a sorpresa non lo dico subito così sono due acquisti uno dietro l'altro purtroppo se è una macchina te la lascio lì perché non me ne frega niente io sto andando a fare un'altra cosa signori allora atterriamo ok andiamo dentro andiamo a vedere com'è questa questa cosa qui questo attico casino attico garage parcheggio andiamo a vedere com'è il garage dell'attico di lusso partiamo dal garage perché io ai tempi volevo il garage però poi non l'ho preso più quanti posti d'auto ha vediamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci per altre dieci macchine in un futuro ok da ascensore qui attico di lusso di lusso scusate andiamo a vedere com'è tutto l'ambarandano ci sarà dentro un io non sono pratico è tutto cambiato è più grande una madonna qui da miliardari ecco c'ho il croupier si dice così per giocare a black jack che bello poi ci giocherò così mi passo il tempo anche il bar madonna non era così eccezionale sì 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 voglio bere vodka no perché un bicchiere no 150 mila 150 mila eh sì eh mi prendo un whisky dai è normale gratis 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 tutto gratis 150 mila cazzo è da ricchi qua qui è da miliardari sì sì dammi tutto grazie grazie cara non ne bevo di più sennò dopo iniziavo a ombreacarmi allora mi sposto andiamo a vedere cosa c'è qui le macchinette che tu giochi e poi di qua che c'è la piscina andiamo in terza persona vediamo che succede quando vado dentro dovrei essere già in costume ah ecco e questo chi è? ah per cambiare look bestiale vediamo c'è il parrucchiere personale acconciature acconciature cosa hanno fatto? ah ah i capelli il mio negro come diceva al film eh di polizia come si chiama? Danzel Washington no? un film che poi morì lui alla fine che uccise la mafia russa l'ha crivellato di colpi l'hanno imbottigliato perché doveva dare un milione di dollari e perché lui aveva pestato a morte uno di loro un amico un cugino di qualcuno e in questo film l'hanno massacrato alla fine perché poi anche era un corrotto e lui diceva al ragazzo quello giovane che era entrato con lui a far parte della squadra antidroga lo chiamava il mio negro comunque può darsi che questo personaggio che è nero che io l'ho voluto fare così sapete c'è un motivo comunque io ho fatto il personaggio negro per un motivo per vedere in America la verità per vedere negli Stati Uniti quanta odiano magari il razzismo le persone di colore tutto qua per quello l'ho fatto perché in realtà questo personaggio era bianco era una una bella persona l'ho voluto io cambiare e farlo diventare più aggressivo cos'è cos'è che si è acceso un momento cosa dice qui ah se voglio bere vediamo vabbè vediamo cosa dice ok dai beviamo c'è un'altra e salutiamo a questo punto siamo a due e siamo a due già inizia inizia basta fermati qua allontanati da qui perché se no allora è tutto qua allora è tutto e la sala dov'è la sala cinematografica no questo qua sotto non è qui cosa c'è qui c'è un qualcosa che è sempre mio ah questa la camera da letto e di qua ci sarà il super bagno come prima eccolo qui qua dentro il gabinet la toilette scusate qui si è anglo doccia ah vedi se vuoi farti la doccia ti fai la doccia ehm bene allora andiamo avanti voglio vedere dov'è la sala ah il guardaroba guarda bello eh ho speso tanto i soldi hanno è bello per quello se no alla fine che fai non fai nulla andiamo a vedere di qua un attimo ok ma dov'è la sala dove io voglio vedere un film perché ho preso tutto questa cos'è la camera da letto questa non l'avevo vista qui per vedere internet sicuramente per quello ma io così provo sto provando tutto ok va benissimo alziamoci bello bello veramente gran lusso veramente da ricconi qua qua che c'è qua non c'è niente vediamo dov'è questo benedetta sala forse è questo qua dentro qui ecco ragazzi e qui non c'è dietro queste tende paver mi ha detto che posso andare a fare i colpi adesso vengo a rapinare non è un pro grazie paver che mi ha mandato il messaggio e mi prepara un altro colpo già ne ho fatto già uno prima ho preso un milione e due però non li non li pubblico pubblico solo quelli dove c'è un bel incasso comunque c'è tutto ok e per questo video è finito no 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 non è finito andiamo a vedere una cosa ecco io ho un'altra cosa troppo lontana che sarebbe la base operativa ok si va qui no le agenzie non ci sono sconti ho visto prima se non l'avevi comprata avrei preso il massimo ma questa qua da 2 a 8 ma non sconti non ne abbiamo quindi per il momento le agenzie appena ci saranno gli sconti la comprerò vediamo andiamo a vedere allora io ho il bunker che l'ho cambiato le basi operative guardate dove è la mia base dall'altra parte dell'America ecco se io invece dico modifica no un momento non devo dire modifica vediamo se base operativa qual è la più vicina eccola qua però non ho visto la zona è pieno però io io c'ho dandogli dentro la mia ah questa non è che tanto bella però quella in mezzo al laghetto ok questa qui è quella in mezzo al laghetto dato che io c'ho il bunker qua il mio bunker è proprio qui in questo punto qua qui vediamo com'è questa è vicina sempre tanto alla fine mi serve soltanto oppure questa qui quando faccio le missioni me le faccio da solo no per andare a prendere le deluxo e riesco massimo da là in fondo a portarne due su tre e poi devo ripetere ancora una missione e poi ce l'ho tre su tre quindi io direi questa è sulla strada route 68 che è la più vicina però abbiamo questa ancora che è più vicina e costa ancora meno quindi io dando dentro il mio ci è vicino zancudo eh sì allora e ammettiamo che io prendo questa vediamo che succede decorazioni cannone orbitale già io ce l'ho e lo rimetto sala di controllo ce l'ho di là la rimetto area relax dovrei averla ah c'è anche qua vedi vetro oscurato anche anche poi poi c'è di lusso o così premium di lusso di lusso è bella di lusso premium vabbè mettiamo premium eh l'alloggio giusto perché ce l'ho di là io di là eh non c'ho il letto così c'ho un bel lettone tipo così mettiamo premium dai anche all'alloggio premium decorazioni andiamo a vedere com'è e poi il colore ho capito e la decorazione è questa ma il colore com'è ah stile su stile scusate vediamo questo rosso bella rossa proviamole tutte così intanto vediamo com'è perché quella che ho io è sullo scuro questa è quella di prima rossa blu gialla verdone marrone ecco la mia è così ecco ha questo colore poi c'è questo sto pensando sto decidendo il colore se mettere il rosso cosa cambia in soldi o rimettere questo qui che è quello che ho vediamo ah ecco i soldi questo è 4,50 questo 4,12 io ve l'ho speso 4,12 eccolo qua se metto questa 262 andiamo a vedere le decorazioni tavolo bella questa qua anche sul rosso questa qua è proprio tipo rombi in 3D eh sembrerebbe vederlo sono tutte carine tutte belle cambiano solo i prezzi e basta cosa avevo messo questa mi sembra mettiamo questa decorazione il cannone orbitale ce l'ho già ok la sala di controllo ce l'ho perché lì mi danno poi gli snack e le cose ce l'ho già vetro scurato non ce l'avevo mi sembra alloggio l'ho rimesso premium ok acquista acquisto ok vediamo quanto c'ho di sconto 4.397.000 dov'è il mio telefono e voglio proprio vedere un attimo quanto risparmio 4.397.000 ok meno adesso io prendo faccio l'acquisto c'ho dentro il coso l'Avenger ecco 1.655.000 meno meno e ho perso un attimo il conto torniamo indietro allora acquisto non riuscite giù è vero lo so torna alla mappa no base operative torniamo qui avevo scelto questa stile base tutto da capo era rosso ok decorazioni avevo messo questa canone orbitale questa è per colpa mia perché ho sbagliato a premere un tasto nel telefono e si è azzerato sala di controllo la rimettiamo area relax ok vetro oscurato premium alloggio ok premium torniamo sulla lo stile ecco stile è questo avevo messo giusto decorazioni questa cannone orbitale c'è sala di controllo è questa questo colore mi dà però perché un attimo scusate mettiamo questo voglio vedere la sala di controllo che colore ha è sempre quello allora mettiamo questo stavolta in rosso ok decorazioni cannone sala di controllo c'è area relax vetro oscurato ok alloggio acquista ecco qui allora 4 milioni faccio 4.390 4.397 meno 4.397 meno ok uso il mouse faccio prima acquista meno 1.655.000 meno 1.655 meno 1.655 totale mi costa 2.742.000 faccio anche questo e così ho tutto vicino sì ok imposto la meta e così a chi vede questo video faccio anche questo qui vado a vedere quanti soldi mi sono rimasti avevo 320 milioni e mezzo ne ho da recuperare adesso 8 milioni e qualcosa ma tanto li recupero quello non è un problema allora usciamo di qui allora se avevo la macchina potevo uscire dal dal parcheggio allora quindi io vado sul tetto perché ho la moto da su quindi quindi finendo il video mi vado a vedere adesso il ecco lì è un po' stato la meta così vediamo anche questo questo capolavoro e poi il nightclub mi manca poco poche cose non ho messo degli operai per fare aumentare le crescite di vendita quelle cose lì però magari ce lo sconto adesso adesso vado a vedere pure lì e così finisco tutto e ho finito tutto mi manca solo l'agenzia praticamente basta non è neanche lontano vede vedete io quando faccio le missioni le preparazioni sono più vicino vediamo la comodità se non ho sbagliato dovrebbe essere buono perché mi ha detto che sulla strada route 68 credo adesso mi ricordo il nome route 62 68 quello che è intanto adesso sulla strada si vede il nome della strada route 62 dovrebbe essere allora dato che è zancudo ho l'hangar e ho vicino anche anche questo qui vediamo vediamo dove è nascosto eccolo qua che bello aspetta non entro dentro con questo qui perché mi serve per il garage per le missioni per sbrigarmi andiamo dentro a vedere oggi spese è natale siamo vicino a natale quindi si spende anche qua dentro più che altro c'è la venger dentro c'è la vende e due macchine che ho preso gratis perché l'aveva messa gratis in gioco l'ho prese poi magari più avanti le modifiche bello eccolo qui allora avenger c'è eccola tutto rosso eh non è male non ho sbagliato colore dai vedete con le due macchine lì erano gratis e l'ho prese andiamo a vedere le ultime vieni qua andiamo a vedere quando vado giù giù di qui se è tutto come prima perché io ho messo queste cose c'è eccolo qua qua la guardia tutto uguale qui non c'è niente ok passo di qua ci dovrebbe essere dopo la signorina come prima vediamo se la statua che mi è rimasta guarda qua minigun pronto for valor eccola qui la signorina vediamo gli snack puoi chiamare la Pegasus per farti dare quello che ti occorre proseguiamo questo è l'alloggio che io già avevo però adesso ho un altro colore bello mi piace bel colore e questo cos'è il vetro ecco qui ecco questo qui non ce l'avevo mettiamo lo scuro questo cos'è il gabinetto allora andiamo a vedere dentro qui sulla sinistra c'è il cannone orbitale che non l'ho mai usato non lo userò mai non spenderò mai tutti questi soldi andiamo a vedere se funziona ci dovrebbe essere un punto forse lo da ecco mi devo fermare cioè tirare una cannonata e guardate quanto costa a uno per esempio ho un gru 500.000 o 750.000 guarda adesso io sono in una sessione a inviti per quello ok qui è tutto come prima ok questa c'è questa mi sembra che non c'era ma era andata quando ho finito le missioni mi sembra è roba vecchia eccola qui la centrale c'è c'è tutto vedete rigioca il colpo dell'apocalisse ecco qua furtodati eccetera eccetera però non lo faccio perché se no mi azzera mi dice che mi togli i punti andiamo a vedere di qua che c'è sì sotto è tutto come prima in fondo ci dovrebbe essere dei serve credo qui in fondo qui forse se si apre no non è qui va bene basta andiamo giù a vedere qua sotto intanto queste porte non si aprono ecco il gioco inizia sempre a togliermi i soldi come a tutti ah abbiamo anche la macchinetta per acquistare una bevanda se ti vuoi bere qualcosa andiamo in fondo vediamo cosa c'è qua in fondo eccola qui questa qua è zona server ok tutto come prima e così ho portato anche questa qua vicino eccoli qui questa ce l'avevo già nella nell'altra base va bene va bene ok ho visto tutto sono tutto come prima bello bello ah il vetro il vetro ritorna sempre normale qua è l'armeria ecco qui guarda guarda forse questa non l'avevo messa qui per le armi personalizzazione set armi qui cosa c'è non c'è niente e qui si riapre ok questo non può darmelo perché io ce l'ho già voglio solo rivedere la la camera ecco il vetro è rimasto scuro ok basta e anche questo video termina qui spero che qualcuno gli è piaciuto quello che ho fatto un video in due acquisti oggi ne ho fatti tre solo una corsa veloce verso l'avenger ehi eccolo qui il bestio ok Joker Game come al solito chiude il video fra un pochi secondi spero a tutti che vi è piaciuto ciao a tutti al prossimo video su sconti e robe varie per gli interessati che magari non lo sanno e vedono da me a me fa piacere ciao a tutti ragazzi e buona serata